Buongiorno, sono Matteo Conti, dirigente del Comune di Milano dell'Area Turismo. Sono responsabile del progetto CITUR, Sistema Informativo del Turismo. Il CITUR è un sistema informativo integrato a supporto della programmazione e l'organizzazione degli eventi. Il progetto è il risultato tra i finalisti del Premio dell'Innovazione SMAU del 2010. Al workshop presenterò il sistema informativo e le funzionalità di reportistica associate al caso dell'organizzazione di un grande evento sul territorio di Milano.